Vi ringrazio uno a uno perché non è solo una petizione, è la lotta coi denti, è la rabbia per resistere, è il nostro grido contro quelli che abbandonano, contro quelli che esercitano un potere anziché rendere un servizio. Non è solo restituire la scorta al capitano ultimo, è far vincere la sicurezza dei cittadini sulla violenza della mafia. Non ci fermeremo.